Stretta nei controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Città di Castello, nei fine settimana appena concluso, finalizzate a contrastare il dilagante e sempre più frequente utilizzo di stupefacenti anche da parte di giovanissimi, con dei controlli nei locali della Movida e dei parchi pubblici, ma anche nelle zone periferiche e in quelle meno affollate. In totale sono state bloccate 5 persone, tutte fra i 18 e i 40 anni, tutti alto-tiberini, sia italiani che stranieri, che sono state segnalate alla prefettura di Perugia in qualità di assuntori di stupefacenti. A due di questi, entrambi quarantenni, uno residente a Citterna ed uno a Città di Castello, sono state ritirate le patente perché trovati in possesso di cocaina e marijuana mentre erano alla guida di auto. Due giovanissimi invece sono stati fermati all'uscita di una discoteca. Per i segnalati verrà inoltre avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle proposte autorità amministrative e sanitarie. Questo maxicontrollo arriva nelle ore successive all'arresto, sempre da parte dei carabinieri, di un 18enne Tifernate accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari infatti hanno trovato a bordo della minicara del ragazzo, incensurato, un panetto di hashish da 100 grammi nascosto all'interno della vettura, oltre alla somma contante di 210 euro, ritenuta provento di spaccio. A casa e la ragazza aveva anche un bilancino e tutto il materiale per il confezionamento delle droghe. Da qui l'arresto e i domiciliari.